bello a tutti ragazzi bentornati sempre qui con noi su The Last of Us in multiplayer tra l'altro stato già ampiamente trattato dal canale non per ps4 ma come abbiamo visto insomma io vi ho messo sì il video che mi invito di andare a vedere di comparazione tra le due grafiche su youtube potete notare vabbè un netto miglioramento del texture tra l'altro se mettete in standby l'immagine altrimenti è già più difficile da vedere ma a parte questo insomma i frame per second non contano più perché youtube ha una renderizzazione piuttosto bassa dei video quindi non lo vedete e insomma e quindi è così ricordiamoci che siamo in programmazione estiva probabilmente quindi ci saranno le due settimane di agosto probabilmente questo video uscirà dopo però le due settimane d'agosto in cui praticamente non avrò risposto però abbiate fede risponderemo a tutti a tempo del ma io questa mappa l'ho mai vista ma sapete che io questa mappa non l'ho mai vista ma che cazzo di mappa è ma pensa è una mappa nuova questa qui e questo cos'è l'altarino pregano degli dei pagani ooooh peccaminoso tanto non so minimamente dove devo andare ma tanto ho lo schermo per il computer che è veramente scuro perché sto testando uno schermo asus quindi non so se mi vogliono attrarre lì con scopi scientifici o gli si era frizzato il computer boh allora fermi tutti fermi che vi devo approvvigionare però è bello sto chiacchio di ok fatto è bello sta mappa mi piace se non fosse per lo schermo del computer che è veramente scuro ma perché ho sbagliato a settarlo riesce a squirarlo wow allora non ho capito perché adesso una volta bastava tipo il nastro adesivo e la forchetta per fare il bastone nodoso cioè pieno di invece adesso non ho capito perché vogliono anche le bende che cazzo di senso ha cioè hanno cambiato qualcosa oltre i grilletti per cui mi devo sempre confondere finito andiamo allora andiamo un po' qua avanti non vedo nessuno all'orizzonte e questo è un brutto segno che cosa sta luce io vedo la luce bomba armata attenzione cielo che mica ha fatto boh ho un po' paura andare così allo scoperto vabbè speriamo perché è andato indietro? ma no è libera testa di cacchio saprei neanche ok fatto no sono là vabbè ma allora dai che cosa sta luce? no è libera testa di cacchio che cosa sta luce? no è libera testa di cacchio sta arrivando dai corri testa di cacchio bravo fermo lì oh questo bello carico ma dove cazzo è sto tipo che continuo a vedere su? no merda potevo interrogarlo coglione anche lui cazzo vai 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 che sono un bello blindato dai blindala la super cazzola ma quanti secondi aspetta? due poi poi è libera te c'è l'unica c'è la super cazzola è tutto che è che è l'armato mandira ovvio è tutto è tutto il Ma dove cazzo è? Ma lo sapete che è? Il mio timore è che mi stiano chiudendo a panino. Cazzo, quanto è scuro lo schermo. Dai, le testa di cazzo! Porca puttana, mi stancho di... Dai, 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 che ti interrogo io! Porca puttana, c'è quello lì dietro che adesso mi fotte. Senti, io me la do un po' scusa. Stiamo un pochettino qua. Scusate, ma ragazzi, momenti di tension a bordo. Il bastone c'è ancora. Non ce l'ho più modificato, ho bisogno di qualcosa per modificarlo. Ti prego. Tutte cose inutili! Cazzo, ma è... Cioè... One shot, one kill. Bravo! Ok, anche questo è stato fatto fuori. Qualcuno mi copra mentre mi sistemo. Cosa vuoi che ti copra? Merda, sono già qui. Un vagabondo in meno. Un vagabondo in meno. Dai, 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 dai. Ora prova a rialzare. Merda, è quello che arriva. Un cacciatore là! Eccolo! Figa, così? Bella di padella! Sacchetti di sterco! Mamma mia, ragazzi! Guarda lì chi è primo! Mamma mia! Gliel'ho buttato! Come diceva Cioca Madonna! Bravi, bravi! Popolazione! Ho guadagnato il trofeo! Popolai!